Con lo strumento di analisi, a di commerciale, puoi utilizzare anche gli attributi definiti nelle videate personalizzate dell'azienda. Definibili nella funzione, servizi, personalizzazioni, videate. Gli attributi utilizzabili sono quelli presenti nelle funzioni. Videate anagrafiche piano dei conti clienti fornitori. Anche quelle riportabili. Videate anagrafiche articoli, anche quelle riportabili. Videate aggiuntive piano dei conti clienti fornitori. E videate aggiuntive e articoli. Dalla funzione, moduli, a di, configurazione processi, devi definire, per ciascun processo di analisi, quali variabili personalizzate vuoi utilizzare nell'analisi. Seleziona in successione le funzioni, variabili e videate, per aprire l'elenco di tutte le videate personalizzate, create nell'azienda. Per ciascuna videata, vedi l'elenco degli attributi idicodificati, e per i quali dovrai definire come li vuoi utilizzare. Gli attributi delle videate piano dei conti clienti fornitori, sono utilizzabili nell'analisi di mercato. Le videate articolo sono utilizzabili nell'analisi per prodotto. Se una videata anagrafica è definita come riportabile, i relativi attributi possono essere utilizzabili anche nell'analisi per documento. Nell'utilizzo di AD, le variabili derivanti dalle videate personalizzate, saranno visibili in elenco, in calce a quelle definite di default. Grazie a tutti.